Da parecchie settimane la montagna bergamasca è alle prese con l'emergenza a valanghe e numerosi dissesti idrogeologici. Com'è possibile intervenire? Sì, quasi il 60% dei comuni lombardi è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e la gran parte di questi si trovano nella fascia montana e piedemontana. Nelle ultime settimane nei nostri comuni, appunto da Ludrino, Val Bondione, in Val Serina, piuttosto che in Val di Scalve negli ultimi giorni, le attività produttive che ancora le aziende, che ancora resistono sul nostro territorio e tutto il comparto del turismo sono stati gravemente penalizzati da questi problemi di dissesto e relative chiusure di strade, difficoltà di accesso. Quindi intervenire in questo momento sia sulla parte di emergenza, quindi nell'andare a risolvere le situazioni che sono andate a creare, ma soprattutto sulla prevenzione è, secondo me, una necessità di cui non ci possiamo più sottrarre se vogliamo bene al territorio montano, perché dal 48 ad oggi il dissesto idrogeologico è costato 65 miliardi di euro. Ne sarebbero bastati meno della metà per agire invece sulla prevenzione e quindi evitare ai territori, in particolar modo i nostri, situazioni di disagio come quelle che si sono vissute nelle ultime ore. Quindi quali azioni portare avanti? Sì, ho scritto una lettera agli assessori bordonali, beccalossi e del Tenno, quindi difesa del suolo, protezione civile e infrastrutture di Regione Lombardia, per chiedere due cose. Da un lato per raccontare quelle che sono i disagi e le sofferenze che i cittadini, i lavoratori, le imprese, i turisti del nostro territorio stanno incontrando in queste settimane. Per chiedere appunto che da parte della Regione venga dato un input, sia attraverso il bilancio proprio, le risorse proprie, ma anche agli enti locali, per far sì che il tema del dissesto idrogeologico e della prevenzione venga messo in cima alle priorità di intervento. Se fino a dieci anni fa avessimo detto che tutte le risorse pubbliche o gran parte delle risorse pubbliche dovevano essere destinate a questo tema, probabilmente in una fase che non era quella di crisi ci sarebbe stata una levata di scudi perché si preferiva andare ad investire su nuovi servizi pubblici, nuove infrastrutture. Io invece penso che in questo momento, magari tagliando qualche nastro in meno e quindi anche avendo minore visibilità su questo tipo di interventi, però finanziarli e dare la possibilità ai territori montagni di non dover incorrere continuamente in situazioni di disagio possa essere la cosa più utile, possa essere quella più funzionale per far sì, come dico spesso, che nei nostri territori si possa tranquillamente continuare a vivere e a lavorare.